È sempre bello ripartire, ci mancava giocare, ci mancava allenare tutti insieme, stagione importante. Dopo il finale della stagione scorsa comunque abbiamo fatto bene, nonostante come è stata la partenza. C'è un gruppo importante, ci sono rimasti tanti giocatori importanti, sono arrivati altri giocatori importanti. Ora è ripartire da mentalità che abbiamo finito la stagione scorsa. Essere capitano di una squadra così importante come i Cagliari è veramente un onore, insieme agli altri ragazzi, i più grandi, i più vecchi di squadra. Fare gol è sempre bello, aiutare più che altro perché ovviamente finisce sempre che la squadra fa bene, la squadra vince. Sono contento perché un altro anno, l'ottava stagione, sono numeri importanti, in una squadra importante mi fa solo piacere. Facendo tanto gol ho avuto la fortuna di segnare in tutti i modi, ho preso gusto, per me vale solo buttarla dentro e basta. Il campionato è difficile come l'anno scorso, il calendario ovviamente rimane sempre difficile indipendente dalle partite, è bello iniziare in casa, speriamo di iniziare bene, partire bene perché deve essere una stagione importante per tutti.